Ci troviamo nel mese di novembre per la prevenzione del tumore della prostata. Oggi, grazie all'aiuto di quella che è la risonanza magnetica multiparametrica, riusciamo a fare un ottimo screening e prevenire il tumore della prostata. La risonanza magnetica ci aiuta ad individuare eventualmente delle zone un po' particolari che vengono classificate con un score, in questo caso si chiama PIRATS, che va da un valore da 1 a 5, 1 e 2 negativo, il 3 è dubbio e il 4 e 5 invece ci dice che dobbiamo approfondire con una biopsia prostatica e quindi un esame istologico. Pertanto la prevenzione è fondamentale ai fini di una buona qualità della vita.